segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tu sei d'accordo massimo giannini aggiungo anche un'altra cosa perché tu nel fine settimana hai avuto un diciamo un duro scambio con il presidente del senato la russa a proposito del 25 aprile altra data che ogni volta scatena polemiche dibattiti intanto ci spieghi cosa è successo e su predappio siccome il ministro no intanto che spiegaci prima questa questa diciamo diatriba tra te diatriba è una questione aperta non già tra il nostro giornale e il presidente del senato ma nel paese nel paese e nella sua storia nella nazione chiedo scusa italo bocchino e nella nostra storia il paese non è citato dire soltanto la nazione nella costituzione sono citati patria e nazione in fronte alla costituzione io minchino voi scrivete ogni giorno a dire vero che la costituzione più bella del mondo e lo è lo confermo parla di patria e nazione assolutamente allora la questione è questa abbiamo fatto un'intervista con il presidente del neo eletto presidente del senato ignazio la russa nel quale lui ha detto alcune cose a mio parere di un certo rilievo una delle quali riguardava proprio la celebrazione della festa della liberazione il 25 di aprile a domanda del nostro paolo colonnello celebrerà la festa del 25 di aprile la risposta è stata testualmente dipende punto certo è che con i cortei che abbiamo visto in tutti questi anni io non sono d'accordo e quindi lì non partecipo noi abbiamo riassunto tutto questo con un titolo che dice non celebro questo 25 aprile lui si è risentito e ha detto che avevamo manipolato il suo pensiero ha contestato molto questo titolo ma in maniera diciamo franca come la russa perché poi la russa è uomo di mondo quindi figuriamoci quindi ci ha mandato una lettera io l'ho pubblicata questa mattina sul nostro giornale con una mia risposta e la mia risposta è quella che dico adesso e cioè già il fatto intanto non abbiamo manipolato niente come è evidente poi già il fatto che la seconda carica dello stato a domanda specifica sulla festa della liberazione che dovrebbe vederci viva dio almeno quella tutti uniti no perché stiamo parlando della peggior dittatura che l'italia ha visto e che l'europa il mondo hanno conosciuto nel novecento insieme a quella del nazismo che risponde già dipende per me è già un fatto piuttosto agghiacciante che vuol dire dipende tu puoi introdurre tutti i caveat che vuoi dopo ma la prima cosa che dice certo che la celebrerò è la festa della liberazione di questo paese al quale tutti ci sentiamo legati poi puoi anche aggiungere come fa lui indubbiamente negli ultimi circostanze negli ultimi anni ci sono state alcune intemperanze nelle manifestazioni che io voglio condannare ma la prima cosa da dire è che quella è la festa sulla quale tutti noi dobbiamo convergere e sentirci uniti non è così perché poi ha aggiunto un'altra cosa e ha aggiunto in quell'intervista è che siamo ancora fermi a questa discussione in cui dobbiamo andare oltre la contrapposizione tra fascismo e antifascismo no non è così mi dispiace per ragioni che riguardano la costituzione che Bocchino ha appena citato noi possiamo andare oltre il fascismo ma non possiamo andare oltre l'antifascismo che è la base culturale, ideale e valoriale sulla quale abbiamo costituito la nostra Costituzione e la nostra Repubblica quel valore non può essere accostato al fascismo puoi accostare al fascismo il comunismo ma non l'antifascismo era esattamente il pericolo che segnalava Norberto Bobbio quando diceva attenzione la destra continua a contrapporre comunismo e fascismo attraverso questa contrapposizione ci porterà a dire che sono equivalenti fascismo e comunismo allo stesso modo sono equivalenti fascismo e antifascismo è esattamente l'operazione alla quale stiamo assistendo alla quale io personalmente, il mio giornale, credo tanti italiani dicono no, il riflesso è predappio perché predappio è la sintesi di tutto questo però lascio la parola perché poi su prodappio voglio dire ancora la mia di intero un pochino